installata l'ecoisola elettronica nell'area di parcheggio la salme l'inaugurazione questa mattina la presenza del sindaco luigi mennella e dell'assessore al ciclo integrato dei rifiuti antonio ramondo si tratta della prima delle tre eco isole previste già operativa nella mattinata di domani per offrire un servizio ulteriore ai cittadini in aggiunta al nuovo calendario di conferimento ai nostri microfoni l'assessore ramone le eco isole sono uno strumento aggiuntivo che noi abbiamo rilevato nelle migliorie dei contrattuali che abbiamo voluto fortemente perché diventano un supporto ulteriore alla cittadinanza soprattutto a quei cittadini che problemi logistici problemi operativi problemi di lavoro perché no anche gli anziani che vengono assistiti possono poter conferire in modo puntuale le varie frazioni differenziate sono facilmente utilizzabili semplici e al tempo stesso potrebbero dare in quelle aree dove c'è una concentrazione massima di abitanti mi immagino parchi e altro un'ottima soluzione a quel conferimento che avviene oggi attraverso un sistema che pare non riesce a decollare fino in fondo. Il funzionamento è H24? H24 monitorato anzi colgo l'occasione attraverso i diffusiti di appellarmi all'intera cittadinanza tutta l'area di Parco La Salle è videosorvegliata H24 quindi anche i comportamenti anomali verranno puntualmente registrati e sanzionati con il nuovo decreto semplificazione l'abbandono dei rifiuti il conferimento irregolare dei rifiuti è un reato penale provvederemo anche ad adeguare la nostra ordinanza alle nuove norme perché il problema dell'abbandono dei rifiuti e il conferimento irregolare è penale. Come funziona in concreto l'ecopunto? Le persone possono conferire tutti i giorni tutte le tipologie con il proprio codice fiscale la tessera sanitaria la mettono la fanno leggere alla macchina selezionano semplicemente sfiorando con la mano la bocca interessata quindi la tipologia di rifiuto da conferire e lo conferirà. Il servizio parte in via sperimentale su tre punti della città quando saranno attivati anche i restanti due? Noi pensiamo che entro febbraio riusciamo a posizionare anche le altre due e ovviamente qualora dovesse andare a buon fine questo esperimento abbiamo la capienza e la possibilità di installarne ulteriormente anche sul resto del territorio.